Hai mai visto questo insetto a casa tua? Scommetto che hai cercato di eliminarlo pensando al peggio. E se ti dicessi che invece è un alleato contro mosche e zanzare? Ma facciamo un passo indietro. Si chiama Scutigera Cleopatra ed è un centopiedi. Vive principalmente negli ambienti umidi e in casa si adatta ovunque. Ma perché è utile? Beh, perché si ciba di tutti gli insetti indesiderati come mosche, zanzare, blatte, formiche, cimici e farfalline. In più, anche se è velenosa, non è pericolosa né per l'uomo né per gli animali domestici. Visto che il suo veleno per noi è totalmente innocuo. Ma come sempre stiamo attenti. Se ne troviamo un paio in casa possono effettivamente essere utili. Ma se ne vediamo tanti dobbiamo rimediare chiamando un disinfestatore o provando con rimedi naturali come il caffè e il pepe. E tu conoscevi quest'animaletto? Scrivilo nei commenti.